Ciao, sono Giuseppe di bastamuffa.com. Nel confessionale di oggi vorrei raccontarti la storia di un imbianchino che circa un mese fa ha fatto un lavoro a casa di un suo cliente. Si trattava di una normalissima imbiancatura e ha dovuto trattare anche qualche puntino di muffa che si era formato intorno alle finestre. Ora, questo imbianchino non mi conosce, però questo messaggio è dedicato proprio a lui. Devi sapere che dopo aver fatto il lavoro di imbiancatura il cliente gli ha chiesto appunto di ritoccare quei puntini di muffa che si erano formati intorno agli estipiti delle finestre. Lui per risolvere il problema del cliente ha utilizzato della cementite che se non la conoscete è un prodotto che si usa di fondo per cancellare delle macchie tipo macchie di umidità e infiltrazione di acqua. Cosa è successo alla fine? Dopo 15 giorni che la casa era tornata tutta bianca e pulita si è riformata di nuovo muffa su questi infissi e ovviamente il cliente, deluso, ha cercato delle soluzioni su internet ed è finito da noi. Ci ha contattato e ci ha raccontato questa storia. Ora, siccome è la terza volta questa settimana che mi capita di sentire storie di clienti a cui è stata messa la cementite in casa ovviamente senza risolvere, mi sono deciso a fare questo video confessionale che ovviamente è una sorta di sfogo. Innanzitutto mi rivolgo a questo imbianchino per fargli presente che ha fatto una pessima figura nei confronti del suo cliente perché dopo nemmeno due settimane che aveva imbiancato completamente casa la muffa si è ripresentata tale quale. Mi stupisce ancora oggi nel 2016 che esistono degli imbianchini che molto furbescamente per sbrigarsela presto e magari non fare spendere troppo ai loro clienti si appoggiano a questi mezzucci, cioè di coprire la muffa con un prodotto che ha effettivamente un grosso potere coprente ma che non ha nessuna soluzione al problema. Quindi vorrei fare come dire una sorta di appello a questi imbianchini che ancora oggi lavorano in maniera così superficiale. Forse non vi siete resi conto ancora che nel 2016 e da qualche anno la rete ha un ruolo importantissimo per raccogliere delle informazioni. Ormai i vostri clienti non sono così sprovveduti come credete e non potete rifilargli tutte le soluzioni che avete sempre utilizzato tipo grattare la muffa con carta vetrata o come in questo caso ricoprire la macchia di muffa con la cementite. Quindi questo imbianchino ha fatto una pessima figura perché poi il cliente ci ha contattato e i nodi sono venuti al pettine. Quindi caro imbianchino se vedi questo video hai perso un cliente perché probabilmente non verrai più ricontattato da lui e mi sento di dire sia agli imbianchini che ai potenziali clienti quando non sai come risolvere un problema ormai vai su google fai la domanda al motore di ricerca e trovi mille campane che raccontano di come risolvere questo problema. Anche nel nostro mondo dei trattamenti antimuffa se cerchi come eliminare la muffa trovi il magazine femminile che ti dice di fare una soluzione fai da te a base di candeggina o con bicarbonato o acqua ossigenata. Tu ovviamente puoi decidere se farlo meno o magari puoi trovare aziende che sono specializzate in questi trattamenti che ti dicono la loro soluzione. Puoi trovare anche ovviamente me con basta muffa però quello che voglio dire a questi cari imbianchini che si lamentano che c'è crisi che la crisi l'avete creata anche voi lavorando in maniera molto superficiale e non spiegando ai clienti magari quali sono le vere soluzioni per il problema o magari non le conoscete. Nessuno si offende ovviamente ma vi assicuro che è molto fastidioso per noi ascoltare clienti che ancora oggi ci raccontano che l'imbianchino ha grattato tutta la muffa con carta vetrata e seri formata, gli ha messo litri e litri di candeggina sulle pareti o come in questo caso ha ricoperto tutto con cementite. Ve ne dico l'ultima, un altro trucco storico degli imbianchini è ricoprire la muffa con una bomboletta spray di bianco opaco che ovviamente essendo una bomboletta lanitro maschera subito il problema, in 5 minuti asciuga e te ne scappi con i soldi in mano. Ecco cari signori lo scopo di basta muffa confidential è proprio anche di smascherare tutte queste modalità di lavoro sbagliate che magari vi tramandano da generazione in generazione ma ormai con tutte le fonti di informazione che abbiamo non possono più continuare. Quindi io farò l'impossibile per rendere i nostri potenziali clienti o chiunque mi segua informato anche più dell'imbianchino. Quindi se ti presenti a casa del cliente e gli racconti che con la cementite risolvi il problema sappi che il cliente ti potrebbe sbugiardare e ti manda a casa immediatamente.